Giustizia alle vittime della mafia, gli immobili confiscati. Il Consiglio regionale approva all'unanimità una proposta di legge sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Urbanistica, le procedure del PNRR, modificata la legge, approvate dal Consiglio le modifiche richieste dal Governo sull'iter semplificato per i progetti relativi al piano di ripresa e resilienza. Bentrovati, nuovo appuntamento, l'appuntamento settimanale con Monitor Consiglio, il nostro approfondimento dedicato ai lavori del Consiglio regionale. Ebbene, lo avete sentito dai titoli, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo. È quanto prevede una proposta di legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. E allora sentiamo le interviste con i protagonisti del Consiglio, Francesco Torselli, Giacomo Bugliani e Marco Casucci. Sì, io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consigliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati dalla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima, perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati dalla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione e quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio dalla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Speriamo che il Parlamento recepisca questa proposta di legge, anzi approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto, un invito a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale. Il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare, quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia di cui è l'articolo 416 bis del codice penale ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di risoluzione sulla base dell'attività svolta nel 2021 dal garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani. Con l'atto si chiede di proseguire sulla strada intrapresa per la tutela della salute mentale dei detenuti nelle case circondariali, il sistema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e il completamento del sistema sanitario in carcere. Quanto già fatto in positivo deve essere monitorato e implementato. Sentiamo Giacomo Bugliani e Marco Casucci. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenza le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante. Il quale fa anche un auspicio, un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Solliciano, il carcere più importante dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti. In particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri, nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga. Un principio fondamentale perché nel nostro Paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato. Il Consiglio ha approvato le modifiche alla legge 12 del 2022 con la quale si semplificano le procedure per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari. Le modifiche sono rese necessarie per effetto di una serie di contestazioni avanzate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il Consiglio regionale le ha approvate a maggioranza con 27 voti a favore ed uno contrario, quello della consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, non hanno partecipato al voto i consiglieri di Fratelli d'Italia. Le interviste realizzate con Antonio Mazzeo e Alessandro Capecchi. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il Governo per evitare l'impugnativa, oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquento insieme al Segretario Generale, agli uffici del Consiglio regionale con il Ministero del MIBACT, avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. E quello che abbiamo fatto è la leale collaborazione, ha portato poi alla modifica di questa norma, che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. Oggi abbiamo assistito a un'inedita trattativa, o meglio al racconto di una trattativa, che c'è stato nei giorni scorsi fra il Governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione diciamo dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio, perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Ancora una volta per fare presto e bene, si spera, in realtà si forzano le norme che la stessa regione per anni ha tenuto inchiodando l'economia locale. Si è parlato anche della terza corsia sull'autostrada A11 tra Firenze e Pistoia nel vertice fra la regione ed Autostrade per l'Italia nei giorni scorsi. A spiegarci le prospettive dell'argomento a margine del Consiglio regionale è stato il Presidente della regione toscana Eugenio Gianni. È importante che dopo questa occasione noi abbiamo raggiunto l'intesa perché partano i lavori di quello che è il nodo fiorentino e lo sviluppo nella terza corsia fra Firenze, Prato e Pistoia. Sarà in questi giorni che iniziano i lavori preliminari probabilmente fisseremo per i primi giorni di settembre la fatidica posa della prima pietra ma questo comporterà la fluidificazione del nodo di Peretola dove quante volte si creano le file perché il semaforo davanti all'aeroporto genera ritardi pazzeschi e addossamento di auto prima di entrare in autostrada. Sarà fatto con un sottopasso e con i cosiddetti fiocchi di fluidificazione ovvero con delle circolari che consentiranno di rendere più agevole l'uscita e l'ingresso a Firenze. Ma è solo il primo lavoro perché pavimenta la società che appunto è controllata, la società autostrade quindi non c'è questione di appalti, si lavora direttamente attraverso la propria società controllata allarghi step per step come abbiamo chiesto, voluto, rivendicato come enti pubblici territoriali lo spazio dell'autostrada a una terza corsia, prima fino al primo casello, poi fino a Prato e poi a Prato-Ovest e quindi Pistoia. Sarà una capacità di collegamento e di fluidificazione di grande portata a partire dal nodo di Peretola a continuare sull'area Firenze-Prato-Pistoia che è la più densamente abitata. Naturalmente accanto a questo una serie di interventi, la società autostrade che si propone a supporto, poi Dianas per il passaggio a Prato dalla declassata a una strada a quattro corsie che possa fluidificare quello che è una circolazione che è sempre in sofferenza nella città laniera, continuare con l'intervento che può dal primo casello della Toscana, ovvero Firenzuola, portare agevolmente alla Valle del Santerno, il cui capoluogo è proprio la città di Firenzuola e poi tutta una serie di interventi, penso al collegamento diretto fra la viabilità ordinaria e la realtà autostradale a Scandicci, senza bisogno di passare dentro la FIPILI dove questo passaggio, anche solo per 500 metri, condiziona moltissimo il traffico di entrata verso Firenze. È un intervento, quello che società autostrada realizzerà, che complessivamente porta 6 miliardi e 4 sul territorio toscano nei prossimi dieci anni. Io spero che presto società autostrade possa cedere anche le concessioni e le convenzioni ad Anas perché la Tirrenica nei suoi elementi di maggiore strazzatura, in particolare nell'8.4 e nell'8.5, quello da Grosseto a Fonteblanda e l'altro da Fonteblanda al confine toscano a Capalbio, possano dare al nostro sistema stradale e autostradale quelle caratteristiche di modernizzazione che si richiedono. Come del resto è per me un vanto in questa legislatura il fatto di aver visto realizzare quella realtà, quel bypass da Barberino a Calenzano che in tre corsie garantisce la massima sicurezza e garantisce anche quella fluidità di circolazione che prima veniva messa in discussione. È tutto per questa puntata di Monitor Consiglio, grazie per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.